Bentornati nella scienza di... Non c'è Marco Cioni? Ci sono io! Meglio di solito, quando non c'è Marco Cioni ci sono meglio. Ma torna il nostro Davide Cocco. Oggi parliamo di The Martian, il film di Ridley Scott con Matt Damon come protagonista e lo facciamo con un ingegnere spaziale. Quindi tutti pronti? Sì. Iniziamo. Incominciamo con la domanda principale. Andare proprio su Marte oggi è fisicamente possibile? Perché in realtà nel film sembra che siano in un futuro non troppo lontano e ci arrivano in maniera anche abbastanza facile. Voglio capire, è proprio fisicamente possibile arrivare su Marte? Come funziona il sistema di Marte? Come ci si arriva? Come è strutturato Marte proprio come pianeta? È una domanda lunga che prevede una risposta lunga, però partiamo prima da che cosa è Marte? Già parti che la differenza delle dimensioni rispetto alla Terra è notevole. Circa la metà è il raggio di Marte, però è posto a una distanza molto più grande rispetto al Sole e rispetto alla Terra. Sono sopra i 200 milioni di chilometri. E questo fa sì che sia un pianeta molto diverso da quello a cui siamo abituati. Per di più ci metti che non ha più un campo magnetico, quindi non ha quasi praticamente più l'atmosfera e già lì parte il primo inghippo che troviamo nel film e nel libro, diciamo così. Cioè che la tempesta iniziale con cui si svolge The Martian è una puttanata. Non ha alcun senso. Ah, non può succedere? Non può succedere perché l'atmosfera di Marte, proprio perché è piccola, proprio perché non ha un'atmosfera praticamente, è circa l'1% di quella della Terra in quanto ha pressione. Il problema è che se tira un vento non ti tira addosso una parabola, non alza i sassi, non sposta le navicelle. È solamente un vento che sposta della polvere finissima. Ci sono delle tempeste planetarie, sì, oscurano il pianeta, sì, ma è polvere molto fine. Quindi loro stavano lì camminando con questo venticello, questa brezza che è cento volte minore dello stesso vento che ci sarebbe sulla Terra. Invece lì nel film fanno vedere una tempesta. È lì, è una tempesta cucinale. Però lì Andy Weir, quello che ha scritto il libro da cui è tratto poi il film The Martian, ha detto, mi serve un escamotage, accollatevi sta stronzata e andiamo avanti. E quindi tutti, vabbè, che dobbiamo fare, andiamo avanti così. Quindi attenzione, qua già partiamo male. Quindi, allora, la domanda principale è, si può arrivare su Marte adesso? La risposta è, boh, dipende, quanti soldi hai? È sempre quella. È sempre quella la cosa. Tecnologicamente siamo a buon punto, non vedete umani su Marte perché ci sono diversi step che vanno fatti prima di poterci arrivare. Dagli anni Sessanta, che c'è sempre qualcuno con l'idea nel cervello, andiamo su Marte. La SpaceX, che è l'azienda privata che collabora anche con la NASA e con tante altre istituzioni, è quella che sta più avanti in questa, tra virgolette, corsa verso Marte. Perché sta progettando la Starship, che sarà il futuro, loro dicono, il futuro veicolo per andare avanti e indire su Marte in modo ripetitivo e più volte l'anno. Sì, per le feste. Esatto. Per la Natale su Marte. Le fa tirato centinaia, caricheremo tutto, l'abbacchio, i fichisecchi. Per agosto su Marte. Così non venite pieno per c***o anzio e il bordello di gente, il macello d'estate, andare pure su Marte. Il problema è che non è detto che riescano nei tempi che loro si sono posti. Io direi una ventina d'anni, più o meno. Ancora? No, però venti anni sono... Per arrivare... Per vent'anni chissà se siamo vivi. Io so, però, questo è vero. Io non lo so. Però diciamo che vent'anni è una stima così, a caso, perché dipende. Se c'è una grossa spinta, anche economica, a volerlo e doverlo realizzare, si può anche fare prima. Quindi, tecnologicamente, se uno volesse... Oh, c'è un miliardo di miliardi. Domani andiamo su Marte... Cioè, sbarchiamo... Facciamo una passaggela su Marte, si può fare, tecnologicamente? Probabilmente sì. Marte è il prossimo passo dopo la Luna. Adesso sta ricominciando l'esplorazione lunare, anche umana. A breve ricomincerà quella umana. Marte è il passo subito successivo. Una domanda. Ma a livello di tempo, per arrivare su Marte, quanto ci vuole? E soprattutto la vivibilità su Marte com'è? Il ci vuole dipende. Diciamo che in circa sei mesi, con le tecnologie attuali, con i metodi di trasferimento, perché poi andare da un pianeta all'altro non ci va in linea retta. Devi fare tutto un effetto di fionde, cose, eccetera. Il problema è che poi dalla Terra e Marte non stanno sempre nello stesso tempo. La stessa posizione girano attorno al sole e girano in modo diverso. Quindi hai una finestra per andare e l'altra finestra per tornare c'è dopo un paio d'anni. Quindi una volta che ce l'hai, insomma, devi pensare. 26 mesi, no? Quindi è giusta quella cosa che fanno capire nel film. Esatto, sì, sì. L'astrodinamica di come funzionano i pianeti è giusta, è lecita, diciamo così. Quindi la permanenza è anche legata a quando ritorno e come ritorno, perché un conto è che ci sto una settimana e riparto subito, in modo tale che sfrutto la stessa finestra. Comunque poco tempo, magari una settimana no. Un conto è che devo aspettare la finestra successiva, quindi diventa non tanto solo il tragitto quanto la sopravvivenza su Marte che non è proprio un pianeta ospitalissimo. Esatto, diciamo di no. Quindi abbiamo capito che, avendo i fantastiliardici, si può arrivare, quindi questa cosa è giusta. Però c'è questo inghippetto della tempesta che loro hanno creato che in realtà su Marte, non essendoci atmosfera, non si può vedere. Non possono esistere tempeste di quel tipo, al massimo una piccola brezza. Sì, sposta un sacco di polvere, ma è polvere, non sono antenne. A questo punto è il momento di dare il voto a Ridley Scott per questa prima parte. Il voto studiato. Io ero rimasto al voto morte, scusate. Adesso è cambiato tutto. Questo è il voto studiato. Eh, va bene. Il voto studiato. Noi dobbiamo decidere da uno che è Berlusconi su TikTok a dieci, che è Stephen Hawking. Non in piedi. No, quella è la Loder. Ah, bravo. Quindi lo seguo, guarda il po'. Bravo, bravo. Ho degli informatori. Allora, diciamo che, secondo me, partendo dal fatto che loro hanno adattato il libro, il libro già parte con questa falla, non voglio essere troppo cattivo, perché non se la sono inventata di sana pianta nel film. Ok. Quindi, è una cazzata, vero, però secondo me un 7 su 10 più o meno gli si può dare. Perché tu dici, comunque non è colpa di Ridley Scott. Gli do le attenuanti generiche. Gli attenuanti generiche. È scritto così. È scritto così. Poi, è l'unica cosa grossa che ci dobbiamo accollare per far funzionare il resto del film. Poi, l'esplorazione di Marte ha senso, quello che fanno vedere è più o meno ha senso. Quindi sì, gli do 7 su 10. NordVPN è arrivata anche su Marte. Per i marziani che magari ancora non sanno che cos'è, è un servizio che vi permette di proteggere i vostri dati quando navigate e siete collegati a reti non sicure tipo quelle degli aeroporti, degli hotel o delle stazioni spaziali. Inoltre, con NordVPN potete accedere a cataloghi di siti di streaming di altri paesi. Ad esempio, qui su Marte Netflix non arriva, io volevo continuare a vedermi ricchi e morti e quindi mi sono geolocalizzato sul pianeta Terra. Così, ho potuto continuare a vedermelo. Quindi, per provare NordVPN con la possibilità di essere rimborsati al 100% entro 30 giorni, andate su nordvpn.com slash slimdogs oppure al link in descrizione per avere uno sconto esclusivo dedicato solo a voi. Perché oggi NordVPN è arrivato su Marte ma magari domani raggiungeremo luoghi ancora più incredibili come la Luna, Saturno, Viterbo, NordVPN. Ciao! Però, adesso, dobbiamo vedere forse una delle parti più belle che è di questo film. Ma però ce ne parlarei in Santucci adesso. perché so che Adriano Santucci tu hai questa domanda dentro di te dove ci vuoi parlare di questo argomento. Parlaci di questo argomento, Adriano. La famosa coltivazione delle patate su Marte che Meddemona a un certo punto fa perché giustamente poi è rimasto da solo e dice mo? Che c***o faccio? E lui si mette, si ingegna, ha delle patate perché ovviamente avevano delle razioni di cibo e dice ma io voglio essere agricoltore su Marte. E lui che fa? Prende un po' di terra di Marte mi sa che lui prende la terra di Marte, ci caca dentro, più o meno. Sostanzialmente ci ha dovuto rimesta nella sua stessa sua e negli altri. Ah sì, un po' di tutti. Quindi coltiva trova il modo per far condensare dell'umidità irriga e dopo non mi ricordo quanto cicciano le patate e quindi lui inizia a cibarsi di patate per tutto il tempo e riesce a sopravvivere. Ora tutto questo come c***o fanno questo è un altro sbagliato forma. Tutto questo è possibile? Cioè si può fare su Marte? Allora partiamo dal presupposto che il personaggio in questione Mark Watney è un botanico. Io sono un botanico. Un paraculo lo scrittore. Esatto che ha mandato un astrologo. Quello che lui fa in realtà funziona abbastanza perché lo facciamo già nello spazio con del terreno portato dalla terra in questo caso quindi non usiamo ce la portiamo da casa lì. Ce la portiamo da casa per forza però in questo momento sulla stazione spaziale internazionale già coltivano insalata fiori cose particolari perché stanno vedendo se in condizioni di microgravità quindi fondamentalmente assenza di peso flutui e basta le piante crescono crescono non se le so pure mangiare però lì hai un terreno che è sistemato a modino per far crescere quella pianta su Marte non è così hai il problema del terreno da rendere fertile che fertile non è è buono che non sia tossico totalmente solo che in condizioni marziane esterne è difficile far crescere qualcosa impossibile ma lui lo fa dentro lui lo porta dentro se lo sistema il terreno si sistema l'umidità i valori nutrizionali e poi entra in gioco la chiave di volta che sarebbe la merda fondamentalmente quindi prende la sua e quella degli altri ma non è quella fresca di giornata è quella stagionata è invecchiata bene ma c'è un motivo per cui lui fa quella cosa ed è anche abbastanza sensata perché se uno prende diciamo così le feci umane o animali in generale senza nessun tipo di trattamento c'è il rischio di infilare dentro dei patogeni roba che ti ammazza o comunque che non ti fa stare bene lì c'è un po' un trucco che utilizzano a livello del libro a livello del film quella è cacca che viene congelata dopo lo smaltimento per renderla assolutamente neutrale esatto inerte dal punto di vista dei patogeni ma conservando i valori nutrizionali l'unico problemino diciamo così è che vivendo di quasi sole patate non fai una bella vita quindi comunque le patate ti danno sostentamento ma lui vive parecchi giorni quasi 589 sol quindi più di due anni che ti mancherebbe tutta un'altra serie di ingredienti e nutrienti e proteine ci sono stati degli esperimenti in cui delle persone hanno mangiato patate per un anno sono dimagriti di parecchi chili e comunque non avevano tutto il necessario per potersi sostentare per bene poi lui fa anche delle attività fisiche non indifferenti va lì smonta rimonta rifa quindi lì dobbiamo un po' crederci ci dobbiamo un po' abbandonare dal fatto che dai vive con le patate e le vitamine a posto non è proprio così però come trovata quella di coltivare su terreno marziano fertilizzato può aver senso voto studiato sulla coltivazione delle patate con la merda allora a me si alza un po' rispetto a prima 9 fattibilità ammazzata abbastanza perché a parte morirci un po' di fame poi per il resto è tutto ok tutto funziona ok considera che prima adesso mi sa che 9 non l'aveva mai preso nessuno in una scena intermedia cioè solo Nolan nel primo episodio di Interstellar ma quella è Perry che si allarga è fisico Gianni vai con la terza scena allora la terza scena penso che sarà quella più lunga abbastanza perché io voglio sapere da te tutta la dinamica del ritorno cioè il protagonista che in qualche modo deve ritornare riescono a trovare un modo per comunicare con la terra e sulla terra cercano di escogitare un modo per farlo ritornare l'opzione più percorribile sembra essere quella di far ritornare la navicella della sua squadra che era più o meno a metà strada riuscire a fargli fare carburante ovviamente e utilizzare un vecchio razzo che stava su Marte smontarlo perché in questa maniera lo rendono più leggero in modo tale che lui può sfruttare la fionda gravitazionale che sta attorno a Marte e incrociare esattamente sullo stesso punto la navicella che sta arrivando cioè mi sembra che una cosa io non ho capito un c***o ma com'è? non me lo ricordo e non ho capito un c***o allora fondamentalmente quello che loro fanno con l'idea di Donald Glover che se ne esce una notte oh c'ho questa idea geniale già questa è un po' una stronzata nel senso non è che le cose vengono in mente di notte e ce n'è uno solo che spiega a tutta la NASA come funzionano gli effetti fionda no Cristo se stai alla NASA però scusami Davide mi vuoi spiegare che cos'è l'effetto fionda? allora l'effetto fionda in italiano ha questo nome altisonante in realtà in inglese si chiama semplicemente flyby cioè tu passi attorno a un pianeta senza entrarci in orbita diciamo che questa è la terra attorno a cui loro devono girare quindi loro invece di entrare in orbita e quindi girare così loro fanno così e poi vengono sparati via ok perché sfruttano cose gravitazionali adesso non vi sto qui a spiegare vabbè non far 4 che il rend vabbè ho capito non far 4 ma che hanno tutti i pianeti un corso di astrodinamica sì io te lo so sono lavorato in cinema mica in un palumpa della scienza in cina in cinema la cosa è che si può fare attorno a qualsiasi cosa che ammassa ok tu puoi girare attorno per le leggi di gravitazione a qualsiasi cosa che ammassa sia che entri in orbita sia che fai un flyby effetto fionda a maggior ragione più è grande il corpo attorno a cui lo fai più è potente l'effetto che ne ne esce fuori non è una cosa che sta intorno a un pianeta è semplicemente una manovra che tu puoi fare ok quindi loro fanno così per tornare indietro più veloci di prima verso Marte e dicono alla navicella di Mark Watney cioè The Mad Demon del protagonista devi intercettarci quando passiamo velocissimi attorno a Marte per farlo devi pareggiare la velocità ok quindi è come stare su un treno e passare da un treno all'altro i due treni devono andare alla stessa velocità ok però stai su Marte però stai su Marte allora da una parte sei agevolato del fatto che Marte ha un'atmosfera ridicola che praticamente non esiste e quindi non hai bisogno di una troppa spinta iniziale sei agevolato dal fatto che la gravità di Marte è circa un terzo di quella della Terra quindi non c'hai qualcosa che ti attrae che è così pesante come la Terra però comunque devi andare parecchio parecchio veloce e gli dicono allora prendi questa navicella che già sta qua per la missione dopo e smonta tutto come smonta tutto mi togli la cappotta le finestre metti questo telo per coprire la navicella sono un po' tutti impanicati anche lui a un certo punto fa zio ma che c***o mi stanno prendendo per il culo cercando di non farmi cagare sotto per fare questa roba effettivamente sì vero però comunque ha abbastanza senso perché se consideriamo sempre che l'atmosfera marziana è ridicola la parte in cui l'atmosfera ti dà fastidio alla navicella e quindi anche proprio dà una forza di resistenza non indifferente è minuscola e la superi quando non vai troppo veloce come dice l'ingegnere del JPL nel film quando sei abbastanza veloce per farti dar fastidio all'atmosfera stai già nello spazio quindi non è più un problema se tu hai la tuta e respiri stai tranquillo dentro la tuta di quello te ne frega relativamente cioè il concetto è non c'è grossa resistenza se tu vai alla velocità giusta e ti fai i c***i tuoi che non vai troppo veloce l'atmosfera non ti rompe il c***o tu riesci a passare non ti rompe troppo coglioni non ti scaldi non c'è troppa consideriamo che uno può fare questo ragionamento in situazioni di estrema emergenza cioè l'alternativa è far c***o su Marte allora preferisco provarci piuttosto che non abbiamo precedenti che possiamo dire l'hanno già fatto ti posso solo dire che a livello di logica funziona poi anche il fatto di dover raggiungere l'ERMES la stazione spaziale in contemporanea alla stessa velocità quella pure ha senso nel senso così si fa basta fai i conti dici tu basta fai i conti e che i conti siano giusti però diciamo che mi accollo il fatto che si possa fare il problema è che poi arrivi buono arrivi a un momento che non ha alcun senso che è quello del buco del guanto quando lui diventa Iron Man di Iron Man perché arrivati a un certo punto vedono che questa velocità di questa navicella non è abbastanza per farla avvicinare alla stazione spaziale quindi che famo che non famo la coda non c'è intanto c'era qualcuno che ha fatto male i conti no? sì allora in realtà loro fanno questa cosa che anche questo poi ti volevo chiedere fanno esplodere un pezzo di nave per dargli il boost no per frenare quella è proprio un po' una cazzata nel senso fisicamente funziona le esplosioni generano forze per la terza legge di Newton azione e reazione se io sparo verso una parte mi ritorna verso l'altra il problema è che nessuno sarebbe mai così matto da far esplodere una cosa su una stazione spaziale quindi la cazzata nel momento in cui cercano di fare questa cosa con le mani per raggiungere la stazione sì perché Matt Damon dice mi buco il guanto e utilizzo la pressione dell'aria come se fosse un motore me ne andrei in giro volando come Iron Man solo che non funziona così nella realtà perché se tu buchi un guanto o comunque ti buchi la tutta da qualche parte innanzitutto non hai così tanta pressione da stare così a sparare per due ore non esiste cioè la finiresti dopo qualche secondo e muori male soprattutto siccome è una pressione di aria che spinge la mano verso il buco del guanto e risucchia si autoattappa cioè la tua pelle e la tua mano andrà ad attappare il buco involontariamente e poi si congela la pelle sì lì non è non è bellissimo quindi non funzionerebbe mai infatti nel libro Santo Andy Weir viene proposta questa cosa non mi ricordo da quale persona dell'equipaggio e viene subito cassata come vabbè state una stronzata smettiti di cazzate ah proprio nel libro sì 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 viene proprio cassata quello che l'ha detto era un fisico ma che ne so non lo so però alla fine nel film ha detto lo sai che c'è ci sta è molto hollywoodiana facciamolo Iron Man ecco gli fanno fare Iron Man e invece nel libro come fanno? trovano un altro modo per avvicinare le due navicelle è molto anticlimatico non è così spettacolare quindi per quello l'hanno scelto per fare il film il resto l'effetto fionda cioè sfruttare la massa dei pianeti per andare avanti e indietro quello si fa lo facciamo dagli anni 60 quindi anzi uno dei primi scienziati che raffinò le formule per sfruttare l'effetto fionda dei pianeti era italiano che andò ad insegnare alla NASA guardate che fate così che funziona allora funziona così allora è arrivato lui gli ha detto stanotte però è la NASA degli anni 60 non quella che manda già gli omni su Marte quindi diamo un voto studiato a Ridley Scott per questa terza e ultima parte io sono abbastanza in difficoltà in questo caso perché diciamo che la parte della fionda la parte della partenza del razzo ha più o meno senso quindi gli darei uno otto cose del genere però con Iron Man scendiamo a due non lo so al minimo quanto è uno è uno quindi boh io gli darei un sei ma abbassato forse anche cinque dai facciamo cinque scendi te vabbè è il senso ti apposta tanti otto e poi uno mi tengo sei perché due fanno voto alto e una fa voto basso c'è la partenza l'effetto fionda e poi c'è l'Iron Man però ricordati la bomba non me la voglio ricordare io la buona non l'avevo considerata forse è più giusto cinque e mezzo facciamo cinque sei meno ma perché devi fare i mezzi ma non vedi i mezzi che Giovanni si incazza facciamo cinque cinque e mezzo sulla grafica Giovanni sei un professore schifoso io sono un premio cinque facciamo cinque secco dai quindi abbiamo dato sette sul mondo Marte come è fatto poterci arrivare eccetera eccetera nove per le patate coltivate con la cacca e cinque invece su questa cazzata spaziale in questo caso di Iron Man finale media fa sette preciso 5, 7, 9 7 proprio e quindi chi è sette adesso? dobbiamo dare un volto a sette io ti direi Elon Musk senza Twitter senza avere interazione con lui se parla solo di spazio Elon Musk è zitto solo se parla di spazio e noi non guardi le date poi per il resto quindi ti chiedo The Martian è un film che tutto sommato è fatto bene a livello scientifico sì però devo aggiungere che c'è una cosa che nessuno cita mai né nel libro né nel film non parlano di radiazioni perché è uno dei problemi principali cioè su Marte ci sono le radiazioni eh sì perché non avendo abbastanza atmosfera come siamo abituati noi sulla terra non è protetto non è troppo schermato loro questa cosa la saltano totalmente ora il problema delle radiazioni non è assurdo del tipo non ci possiamo avvicinare però devi inventarti o comunque devi dire al pubblico che ti sei inventato un sistema per abbassare le radiazioni per proteggerti un grande ombrellone un ombrellone di piombo Andy Weir ha detto guarda secondo me nel 2035 quando è ambientato il libro il film secondo me hanno trovato un modo leggero indossabile ho capito però non me lo dici eh no mi fa incazzare è la cosa principale ti metta di qualcosa hai fatto il libro e il film con quelli della NASA a fianco che ti dicevano guarda si fa così in questo caso il protagonista Matt Damon sarebbe ritornato a casa non con i tumori ma con i tumori dei tumori dopo 500 sol sopra Matt Damon eh ho capito però è la verità quindi tu che vorresti fare è togliere un voto no non si può fare non mi sta bene ma non si può fare questo è un peggiorativo quindi diventa per me 6 che sarebbe Musk con Twitter e con le cazzate che dice ma si può fare che è già tanto tanto Marco Cianni non c'è che te ne frega quindi Ridley Scott prende 6 siamo arrivati a questo punto Ridley Scott The Martian prende 6 ma magari Ridley Scott noi diamo il voto al regista al regista e al film però io lo darei in copropri per chi ha scritto il libro almeno con gli sceneggiatori con Andy Weir che ha scritto il libro sì abbastanza siamo giunti alla fine anche di questa puntata della scienza di vabbè io ragazzi ho delle patatine e andiamo a coltivare le patate vabbè è che proviamo ma da queste può nascere non credo proprio ma anche una merda se ci metti la merda sopra vediamo comunque non hai detto una cosa importante iscrivetevi al canale cliccate la campanella perché escono nuovi non mangiarti le mie patate di Marte escono nuovi video ogni settimana ogni venerdì ci avete un nuovo video quindi noi ci vediamo venerdì prossimo e arrivederci ah condividetelo con gli amici che vogliono continuare le patate su Marte perché funziona arrivederci ciao Davide ciao